È ormai deciso. Ad Albino, Luca e Davide Carrara andranno al ballottaggio il prossimo 21 giugno senza apparentamenti con altre liste. Si conferma cioè il panorama del primo turno. Davide Carrara sarà alla testa del tandem PDL-Lega Nord e Luca Carrara, candidato del centro-sinistra albinese, sarà sostenuto dalle liste civiche per Albino, progetto civico, e per la Valle del Luio. Per entrambi l'obiettivo di questa settimana di corsa al voto è il mantenimento dei voti guadagnati al primo turno, 4.564 per Davide Carrara e 4.443 per Luca Carrara. Resta però da capire da che parte andranno i voti delle due liste minori, quella di Pier Giacomo Rizzi, sindaco uscente, e quella di Antonio Nicoli. Oltre 2.000 voti incerti che dipenderanno dalle decisioni degli elettori in questi pochi giorni. Rizzi da parte sua non risparmia un nuovo affondo alla Lega. Se avessero scelto me, il centro-destra avrebbe vinto al primo turno, ha dichiarato il sindaco uscente. Sulle indicazioni di voto Rizzi torna sui propri passi e si mostra ora moderato, suggerendo ai propri elettori di votare secondo coscienza per il candidato che ritengono più serio. Infine Antonio Nicoli si toglie qualche sassolino dalla scarpa e racconta di come non siano mancate le proposte in questi ultimi giorni per accapparrarsi i suoi voti, ma anche di come lui le abbia risolutamente rifiutate. Perché, dice Nicoli, la nostra lista è nata per proporre metodi nuovi nella politica cittadina e non per avere dei ruoli di potere all'interno del panorama dei partiti.